Dopo altri due titoli italiani, Alberto Corradi, patron del tennis in carrozzina, Sardinia Open Sassari sul tetto d'Italia, ha deciso di ritirarsi dall'attività agonistica. Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente della FIT nazionale, Angelo Binaghi, che ha espresso la sua soddisfazione e anche la rivista della FIT nazionale ha dato molto risalto all'exploat sardo. Alberto Corradi, 57 anni, ha al suo attivo numerose vittorie nei tornei internazionali che gli hanno permesso di salire sino al decimo posto delle classifiche mondiali. Come organizzatore del Sardinia Open, che a settembre compie 20 anni, come la scuola tennis, nata 20 anni fa in collaborazione con lo scomparso Pier Giuseppe Vacca, carissimo amico di Alberto, a cui ha dedicato le vittorie di questa meravigliosa annata. Sardinia Open per quattro volte è stata nominata come manifestazione migliore al mondo dalla ETF e per due anni di seguito come la più brava società comunicativa verso i media. Tra i successi della Sardinia Parolimpica è quella del velocista sardo delle Fiamme Azzurre Mattia Cardia, che è di nuovo campione europeo giovanile Anter 20 nei 100 metri della categoria T12 riservata agli ipovedenti. Ed infine Giovanni Achenza, dopo l'argento di Yokohama, il campione oschirese conclude con un ottimo terzo posto la World Pariatriathlon Series di Montreal, categoria PTVC, e intasca pure i primi punti utili alle qualificazioni a Tokyo 2020. Grazie. Grazie. Grazie.